Parliamo con il direttore del primo corso di dissezione di lembi in microchirurgia ricostruttiva, Michele Riccio. Come sta andando questo corso che comunque fa parte della rosa dei corsi offerti quest'anno da Accademia Chirurgica durante Scacchi? Sta andando bene nel senso che c'è stata una grossa richiesta, abbiamo completato i posti disponibili per tempo, c'è un overbooking, una lista d'attesa e quindi vuol dire che la formula nuova che abbiamo ideato insieme al dottor Piero Guidarelli, cioè di fare una fase teorica didattica approfondita e poi una fase pratica in sala anatomica, ha avuto successo. Quindi siamo per adesso contenti. L'importanza di questi corsi è innegabile. Lei dove proprio la posiziona? Nella preparazione dei giovani o aggiornamento di esperienza? Ma tutti i medici devono continuare il loro aggiornamento per tutto il resto della loro vita professionale, questo è scontato. Però noi ci siamo orientati proprio verso i giovani, se ne parla tanto, no? E anche i giovani medici non sono scevoli da problemi, perché rispetto a una volta dove c'era più possibilità di essere assunti in una scuola di formazione, adesso spesso vanno e migrano, vanno fuori, vanno in altri ospedali anche periferici e da soli è più difficile affrontare i problemi della chirurgia plastica ricostruttiva, no? E quindi avere una buona formazione di base, spalle solide, formazione anatomica, di tecnica, li favorisce nella carriera. Volevamo anche sapere un po' di retroscena, come avviene la scelta dei docenti e dei temi, dei corsi? I temi sono collegati poi a quelli che sono i problemi più attuali nella chirurgia ricostruttiva. Oggi ad esempio si parla molto di microchirurgia per non usare le protesi ma i tessuti propri per la ricostruzione della mammella e si parla molto di costruzione degli arti per incidenti stradali e per trammi sul lavoro. E questi infatti sono i due temi principali intorno al quale ruota tutta la formazione. Per quanto riguarda la Faculti, come primo corso abbiamo chiamato sicuramente il meglio che c'è in Italia, puntiamo però all'avvicendamento, cioè ogni anno avremo un gruppo di docenti sicuramente allo stesso livello che ruota e si alterna. Dottor Piero Guidarelli è il presidente e il titolare dell'Accademia Chirurgica durante scacchi. Un successo questa sessione di corsi di quest'anno? Sì, effettivamente abbiamo tutto pieno, cinque corsi completamente pieni, anzi addirittura abbiamo delle liste d'attesa che compenseremo con la nuova convenzione che abbiamo fatto con l'Università Rumena di Clusinaboga dove faremo una seconda sessione della parte che riguarda la dissezione sul cadavere. Per il resto, considerato che il momento storico, la crisi in generale, limita spesso la partecipazione ai corsi e congressi, dobbiamo essere solo contenti del nostro risultato. Per quanto riguarda la presenza, sappiamo che i corsi si svolgono anche online, però abbiamo anche visto tantissime persone che proprio sono arrivate qui a Fabriano, quindi c'è anche l'aspetto un po' turistico che subentra in questo tipo di iniziative. Sì, sicuramente l'online è una grande comodità perché sia il docente che il discente da casa sua può tranquillamente seguire le lezioni. E' ovvio che la vicinanza poi consente ulteriori approfondimenti, ulteriori chiarimenti, ulteriori conoscenze. E per la città indiscutibilmente la presenza dei chirurghi qui è una mini-mini ricchezza perché ovviamente consumano alberghi, ristoranti e quant'altro. L'ultima domanda sulle eccellenze presenti tra i docenti di questo corso, ma degli altri corsi. Ci vuole raccontare chi ha aderito quest'anno? I docenti li scegliamo tra i professionisti più preparati per i vari settori e per i vari argomenti. In questo caso, per esempio, nel corso di Lembio abbiamo un po' il gota della chirurgia ricostruttiva italiana. C'è il professor Moschella di Palermo, il professor Saccordo di Palermo, il professor Baglienti di Milano, il professor Cipriani di Bologna, tutta gente, tutte persone, tutti professionisti di grande esperienza, di grande disponibilità anche all'insegnamento, al trasferimento delle esperienze che contribuiscono a dare indiscutibilmente un grosso valore aggiunto ai corsi che noi facciamo.